Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi registro questo nuovo video con la mia migliore amica Marta che appunto non vedevo l'ora di farvi conoscere, no scusami, facciamo entrare Marta Allora lei è la Marta e siamo migliori amiche da 16 anni e oggi siamo qui per farvi vedere cosa abbiamo acquistato da Kiko con la promozione prendi 6 e paghi 3, consisteva in scegliere 6 prodotti di cui 3 meno cari venivano praticamente in regalo e abbiamo voluto farla insieme insomma che è finita purtroppo il 28 agosto e quindi oggi vi facciamo vedere cosa abbiamo acquistato Yes! La parto io con il rossetto della collezione Neon Noir, questo qua è il numero 04, guardate che packaging favoloso, ora vi faccio lo swatch, Andre puoi smetterla di guardarci così? No, fa così! Chi? Guarda, mi fa annoio! Questa colorazione qua, noi ovviamente vi si dice i prezzi di questi prodotti, ma non che trovate in negozio, però ovviamente con la promozione abbiamo avuto appunto dei prodotti regalo, quindi il rossetto costa 11,90? 11,90€ e ovviamente quando vi faccio poi, quando lo indosso ovviamente vi posto una foto su Instagram e passiamo al primo acquisto della Marta, ho preso questo smalto blu metallizzato e l'ho pagato 5,90€ e insieme al rossetto io ho preso la matita ovviamente dello stesso colore, appunto la 04, la matita è questa qui e questo è lo swatch. Poi siccome avevo già preso un rossetto sempre della linea che ha preso lei, ho voluto prendere... se si era capito... ho voluto prendere la matita che è la 02 e che appunto corrisponde al rossetto numero 02 e l'ho pagata 5,90€. questo è lo swatch. Ok, grazie Marta, prego! Per ultima cosa vi facciamo vedere due prodotti che abbiamo preso uguali, vediamo il prodotto che è come colorazione e si tratta di questo stupendissimo blush a forma di cioccolato ed è questo qua, è lo 02 Silky Rose & Move ed è il blush Cocoa Shock, lo trovate così e questi qua sono gli swatch, non so quanto possiate vedere però comunque anche di questi vi posto una foto su Instagram e penso siano le colorazioni più carine che c'erano di questo blush qui, quindi l'abbiamo preso uguali e questo qui è costato 10,90€, spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente anche i prodotti, fatemi sapere cosa avete voi della collezione Neon Noir e cosa ne pensate? Ovviamente seguitemi nel mio profilo Instagram e Facebook e ovviamente iscrivetevi al canale e lasciate pollici in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao! I prodotti sono terminati, spero che questo video vi sia piaciuto! Ho preso questo... questo... com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Non ci ho perso qua sto video, spero tutto con te che ci guardi... Si guarda tanto mi vorrebbe dare dello stesso... C'è Andrea che girerla per la stanza mi dà noia, mi dà noia, mi dà noia, metti tu a sedere! Voglio entrare... Allora io ho acquistato questo rossetto qua della collezione Neon Noir ed è il 04... Il 04... Il 04... Ehi! Ehi! Closet. Il 04? No!